Buongiorno a tutti, oggi vi porto all'ultima girata delle frecce del Borgo, andiamo a Sant'Angelo guardate che cacca cazzi che sono questi bastardi, fortunatamente non si vedono perché c'è l'effetto cinema comunque oggi è l'ultima girata del Motoclub, andiamo alla festa di Sant'Angelo è in motoraduno Tonino Benelli che si svolge anche in concomitanza con la Sagra del Tartufo ci vediamo lassù, vi faccio fare un saluto anche dal nostro Presidentissimo buongiorno a tutti, venite con noi a Sant'Angelo che si diverte andiamo a mangiare il Tartufo così siamo davanti a tanta volta così sono proprio un biker di quelli aspetta e faccio anche il gesto buongiorno a tutti 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 Grazie 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 a tutti Con le premiazioni Ci saranno tanti Oscar Qui ce ne sarà presente E ce n'è uno Sicuramente questo è il Nobel E non l'Oscar E' proprio il Nobel Il Nobel per il culo E dopo di che Presenteremo il calendario della stagione está Ciao a tutti Andiamo a rimanere un paese Grazie.